Nino Minardo ritorna a suo primo amore e il deputato modicano lascia il nuovo centrodestra di Alfano per aderire in Forza Italia. In un momento di grandi punti interrogativi sul futuro del nuovo centrodestra, un partito che è riuscito a ricoprire ruoli chiavi nei vari governi che si sono succeduti nell'era post-Bellusconi, pur non avendo consenso elettorale, il parlamentare modicano ha deciso di ritornare alla Corte di Silvio. Si tratta di una scelta che era nell'aria da tempo e che è destinata a cambiare gli equilibri della politica ragusana. In vista delle prossime regionali, la decisione di Minardo rompe le uova nel paniere e Forza Italia si arricchisce di un altro gallo nel pollaio per una realtà partitica già notevolmente frammentata. Lo scenario delle elezioni regionali potrebbe cambiare se Crocetta decidesse di dimettersi. La sua decisione potrebbe essere dettata da due fattori, come il risultato delle amministrative di domenica prossima e la continuazione delle indagini sul caso Morace che vede tra gli indagati anche il presidente della regione. Se Crocetta si dimettesse, cambierebbero molte cose perché i sindaci che non si sono dimessi per candidarsi alle regionali potrebbero rientrare di nuovo in gioco. A Ragusa, oltre agli uscenti assenza Ragusa, Ferreira e Di Pasquale e Di Giacomo, che dovrebbero tutti ricandidarsi, c'è molta attenzione sui movimenti che si registrano nella città di Modica, dove la mancanza di un rappresentante all'asse si è fatta sentire e come. Se Crocetta decidesse quindi di dimettersi, allora potrebbe ritornare in gioco anche il sindaco Abate, che in vista di quanto potrebbe accadere in comune con una situazione finanziaria a collasso e un fascicolo aperto alla procura della Repubblica dalle inoltre conseguenze potrebbe tentare la via di Palermo. Se invece Minardo, come si prospetta, si candiderà alle prossime elezioni politiche con il simbolo forzista, a Modica potrebbe sostenere proprio il sindaco Abate, data la vicinanza che c'è stata tra i due in questi anni. Ma a Modica gli scenari che potrebbero aprirsi sono diversi e già si fanno sbagliati i nomi di personaggi che hanno già provato una volta e che potrebbero riprovarci ancora. Ricordiamo che per le regionali del 2012 i candidati modicani furono Momo Carpentieri, Giuseppe Drago, Riccardo Minardo, Angelo Di Natale, Emelina Carruba, Anna Maria Sammito, Pietro Bellaera, Giovanni Migliore e Antonello Lucifora. Troppi candidati con conseguente dispersione di voti. Questo sarebbe stato il motivo principale per il quale Modica non riuscì a portare nessuno a Palazzo d'Ordeans. Esclusi alcuni dei nomi già citati per via forza maggiore, sembrerebbe invece intenzionato a riprovarci Momo Carpentieri che in questi anni si è politicamente rafforzato creando la lista testomotica che vanno i rappresentanti in Consiglio Comunale. Ritornando invece alla notizia di partenza, al passaggio c'è di Nino Minardo in Forza Italia, c'è da chiedere se adesso quale ripercussioni possa avere questa scelta all'interno del Consiglio Comunale modicano dove già molti esponenti di maggioranza sembrerebbero intenzionati a seguire il parlamentare. Grazie. 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 Grazie.